e benvenuti ragazzi io sono cd di se te oggi do il benvenuto prossimo episodio di fortnite dopo aver guardato l'ultima volta cose delle mappe della gara più emozionante della misura creativa di fortnite oggi vi leggo la news prove il cuore di pietra scopi nuove esperienze di fortnite creativo e ottieni ricompensi nel gioco 14 2 2022 dal team di fortnite hai una grande passione per fortnite creativo o semplicemente scoprire nuove esperienze di fortnite con le proprie cuore di pietra potrai raccogliere ricompensi prima nel gioco giocando a battaglia reale e piazzando t3 prime 10 potrai anche raccogliere ricompensi giocando e votando la tua mappa preferita tra le 6 disponibili tutte riguardate da creatori francesi in ascesa per le proprie cuore di pietra abbiamo osservato questi 6 attori di mappe francesi d'archimension edouard lemon volvic e wisk stars come partecipare alle proprie cuore di pietra al sito web delle proprie cuore di pietra con il tuo account epigames e raggiungi la pagina delle sfide per iniziare per chi interessa ragazzi faccio in diretta con voi annunci si verrai un identifo ogni due ogni ogni due piazzamenti ok raccolti e apporti ok giocando singolo copia giusto squadra non include annunciare di gioco matt di gioco o matt di fortnite quindi ragazzi bisogna fare i 15 punti a c gioca fortnite e ottenere comprensioni nel gioco qua spiega un po' che completare le prove qua questi sono i tuoi progressi otteni unici step per ricevere 3 comprensioni nel gioco quindi ogni due top 10 in forza tbr uguale f1 distintivo playlist disponibile di singolo copia della sette squadra non include altrimenti totale di gioco o matt non so cos'è questo certamente per carità comunque accediamo ragazzi che così vi faccio vedere partecipare alle prove di cuore di pietra devi consentire il monitoraggio delle azioni gioco per il toccante epic games per il calcolo dei punti delle prove di cuore di pietra ovviamente accedete con il toccante epic games facebook google xbox live pc pc network accanto intendo steam o con apple mettiamo sentito indirizzo e mail accedi ora se vuoi scrivere mail avete appena visto il qual è ciao account gioca forte ottene ricompense civico più un distintivo un altro distintivo complimenti ricompense civico non ricompense spray affare fatale continua l'avventura quindi gioca fortnite esegui il terreno di quattro ok completare prove ok allora apporto negativo 0,2 per i cimenti trattamente che sono consultabili su 20,0,1 7,7 non lo so penso che sia quello di io di resto comunque controlli le mie statistiche non mi fanno controllare il controllo giocamento ha finalmente avuto la priorità di riproportare se non mi hai il controllo giocamento si guarda giocare vabbè comunque sono bisogna accedere dopodiché gioca a fortnite per completare le sfide esegui esegui i tuoi progressi sulla pagina l'agenda dei tuoi progressi sul sito richiederà fino a 90 minuti di tuo tempo le prove a quarta di pietra si svolgeranno dal 24 febbraio dal 14 febbraio alle 10 al 24 febbraio alle 5.59 o italiana puoi consultare il regolamento ufficiale sulla pagina del regolamento ufficiale delle prove a quarta di pietra che cliccando vedete qua domande frequenti ecco risposte alle domande frequenti le prove a quarta di pietra e torni a notte a quarta di pietra qualsiasi cosa che se avete qualche domanda leggetevele voi ottenere ricompense nel gioco riceverai un attentivo ogni due passamenti nella top 10 raccolti nelle partite battaglia reale in singolo coperto eccetto squadra le ricompense seguite sbloccano in base al numero di distintivi raccolti un distintivo sbloccherà lo spray affare fatale se gli distintivi sbloccheranno la copertura a cuore accio un distintivo sbloccheranno le piccole spinne di passione votano preferite di forza il creativo le vere stelle delle prove di quarta di vita sono le mappe creative e i loro creatori dopo aver provato le varie mappe uscito per votare la tua preferita riceverai emoticon amore spettato le tre mappe più votate saranno giocate nel corso del torneo notte quarta di pietra spiegato più sotto potrai votare il 14 febbraio alle 10 alle 10 al 19 febbraio alle 23 59 o italiana torneo notte quarta di pietra per concorre le prove di quarta di pietra che tu ti contenuti francesi più amanti della comunità parteciperanno al torneo quarta di pietra il torneo quarta di pietra si svolgerà il 20 febbraio alle 20 o italiana per eseguirlo guarda lo streaming di uno dei creatori più partecipanti prima o durante l'evento ecco quelli che i principanti nanas jolavanil xilia melfishy maivis piratstack blackbird zetfar blonte peach e uncennid speriamo che vi piacciono le prove quarta di pietra ok ragazzi il video di oggi è finito come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se il video è piaciuto ragazzi mi raccomando un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campanina seguitemi su instagram che ho c'è la cd 17 yt ufficiale ragazzi un bacione al vostro cd 17 è tutto ciao ragazzoli ciao 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 ciao